Situato a circa 800 metri in linea retta e in direzione sud-est da Galatone, Fulcignano ha rappresentato l'emblema di un modello di vita profondamente intriso di cultura greca e bizantina. Nel periodo di massimo splendore del casato di Fulcignano iniziarono a farsi acute le tensioni con la vicina Galatone, forse a causa delle differenti origini etniche, linguistiche e culturali. Fu così che nel 1335 si scatenò una dura battaglia tra le due popolazioni, peraltro figlie di uno stesso territorio. I Galatei ebbero la meglio su Fulcignano e la distrussero. L'architettura, forse una delle migliori mai conservate nel Salento, richiama alla mente quella di tipo castellare islamica, come i castelli di terra di Sicilia, che risentono degli influssi architettonici orientali trasmessi dalle crociate. La cinta muraria di arenaria locale era la particolarità dell'intero apparato, poiché era in grado di incutere al visitatore un profondo senso di soggezione per la sua impenetrabilità. Era alta circa 8 metri, lunga ben 75 sul lato più lungo e 49 su quello più corto. Lo spessore, non di poco conto, era di circa 2 metri e 70 centimetri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti